pronto si buongiorno e sono zelensky come ha chiamato le drauli no no zelensky zelensky con la s con la s dura zelensky eh volo volo di quello della guerra quello della guerra senta e cercavo il responsabile del festival sì no perché mi hanno dato no no certo no per carità ma come mi hanno regalato questo telefono però lei in inglese non ci capisco nulla e mi hanno detto ci posso fa video tutto e dice sopra ti sei messo no no ma no ma chi me l'ha regalato ascolti una sì ascolti allora chi me l'ha regalato ma mi ha detto nella rubrica tu ho messi il numero del presidente del festival del cinema e 10 euro di ricarica è l'inglese però magari ho sbagliato numero io di sicuro aspetti aspetti un attimo come cazzo si fa entra nella rubrica è pronto si senta no abbia pazienza e non ci riesco non ci riesco le tutte in inglese senta che ma lei che come una guardia giurata come le o che numero mi hanno messo nella oh signore senta e abbia pazienza ma che poche posso lasciare un messaggio sì allora la gli dice sì se lo vede per carità se lo vede senza impegno allora gli dice ha chiamato e ha detto che il prossimo festival spera di farlo a kiev va bene però ci vuole un po di tempo e risorse questo sì ok questa cosa ultima che gli ho detto se la scriva no il tempo le risorse le risorse ci vuole ci vuole risorse non se la scordi questa qui va bene buona giornata buona giornata rivederla va